Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come eseguire il Roots su un Samsung Galaxy Note 3 senza intaccare il contatore KNOX. Andiamo innanzitutto in impostazioni generale e sicurezza e assicuriamoci di aver smontato la voce sorgente sconosciute poiché installeremo un'applicazione non presente sul Google Play. Quindi scaricate l'applicazione di cui troverete il link nella descrizione e installate TowelRoot. Una volta avviata vedremo che è presente un tasto al centro con su scritto Make it Rain. Clicchiamolo e dopo aver eseguito le sue operazioni dovremmo aver scritto You Should Have Root. Quindi scarichiamo per verificare la presenza del Root direttamente dal Play Store Root Checker. In questo modo possiamo verificare la presenza di Root e come l'applicazione ci conferma il Root è stato eseguito con successo. Ora per dimostrare che il contatore KNOX non è stato intaccato spengo il telefono ed entriamo in Download Mode per vedere appunto i dati relativi al contatore KNOX. Una volta spento il dispositivo per entrare in Download Mode non dovremo fra l'altro che premere il tasto Volume giù, il tasto Menu ed il tasto Accensione in contemporanea. In questa maniera avremo accesso al Download Mode. Per continuare da questa schermata dobbiamo premere il tasto Volume su ed eccoci qua tutti i dati. Adesso vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ad ogni modo si riesce già a capire, vediamo se riesco ad avvicinarlo, che il contatore KNOX Kernel Lock è su 0x0. Quindi non abbiamo intaccato minimamente il contatore del KNOX. Quindi anche per questo video sembra essere davvero tutto e alla prossima. Ciao ciao! Ciao! Ciao!